Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video. Oggi parleremo di gouache, in particolare delle nuove gouache Daniel Smith. Prima di cominciare vi ricordo, come al solito, di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi video. Allora, questo è un prodotto nuovo, cioè da qualche mese, e appena ho saputo della sua esistenza ho desiderato metterci le mani. Daniel Smith probabilmente lo conoscerete come brand soprattutto di acquerelli, infatti ne ho parlato anche spesso sul mio canale, ad esempio per il video sui primari, che vi lascio qui in alto a destra e sotto in descrizione. Queste sono delle gouache extra fini, il set che ho io è il set dei primari con l'aggiunta del bianco, quindi è un set adatto proprio alle mescolanze. Per questo motivo, il primo esperimento che volevo fare era costruire una ruota cromatica per vedere proprio tutte le mescolanze che possiamo ottenere mischiando questi tre colori tra loro. I colori che compongono questo set sono il giallo ansa medio, rosso pirrolo e blu oltremare. Quindi si tratta di una triade di primari classici, diciamo. Il giallo è un giallo medio, leggermente caldo, molto pieno a livello tonale e la prima sensazione che ho avuto stendendo il colore è di una materia pittorica veramente molto pastosa, molto consistente, però anche facile da stendere. Io vi consiglio di spruzzare con uno spruzzino poca acqua sulla pittura, in modo tale che la stesura sia anche più fluida. Ognuno dei colori che proverò e troverò tramite mescolanze lo mischerò anche con il bianco perché secondo me nella tecnica delle gouache è particolarmente importante l'uso del bianco. Infatti i colori puri spesso sono molto intensi e non è indicato diluirli con l'acqua per renderli più chiari. Per questa tecnica pittorica bisogna aggiungere il bianco per far avere il migliore effetto possibile al colore. Ho creato poi un arancione mischiando poco poco rosso a questo giallo, già ho visto che quel rosso pirrolo è estremamente intenso e quindi ce ne vuole una punta veramente piccola per modificare il giallo. E vado a creare delle versioni via via più chiare. Trovo anche che con l'aggiunta del bianco il colore diventi più omogeneo, più facile da stendere e tiri fuori delle bellissime tonalità. In effetti il bianco è anche il colore, il tubetto che finisce prima perché veramente se ne usa molto nelle gouache, soprattutto quando i colori di partenza sono così intensi e pigmentati. Infatti anche se queste gouache hanno un costo in linea con la qualità, quindi non sono economiche, sappiate che ne basta veramente poco. Ciò che si usa di più alla fine è il bianco. Aggiungo altro rosso per creare un arancione stavolta più vicino al rosso e continuo con la mia ruota cromatica. Se vi interessa l'argomento della teoria del colore, sappiate che ho creato un corso online per spiegare la teoria del colore a partire proprio da zero e affrontando tutta una serie di argomenti che secondo me sono molto importanti a prescindere proprio dalla tecnica utilizzata. Quindi sia che siate acquerellisti, sia che utilizzate i colori ad olio, credo che avere una buona conoscenza del colore, come si mischia, come si usa, come si scuriscono i colori, come si creano delle palette, degli abbinamenti che funzionino, eccetera, è qualcosa che deve far parte del bagaglio di un artista. Quindi se vi interessa vi lascio qua sotto il link al mio corso online che sarà disponibile dal 20 febbraio. E vedete come inserendo il bianco, mischiando il bianco, sia anche più facile capire dove vira quel colore, verso quale sommatura vira quel colore. E arriviamo al rosso pirrolo puro. Questo è creato dal pigmento PR254 e questi pigmenti pirrolo io li amo. Lo sapete che il mio scarlatto pirrolo d'acquerello è uno dei colori che uso più spesso perché è veramente fantastico e anche questo rosso pirrolo non delude. È super intenso ed è un rosso che è perfettamente in mezzo tra i rossi caldi e i rossi freddi, secondo me. Aggiungendo il bianco vedete che si raggiungono tonalità rosate quindi sembrerebbe un rosso che vira leggermente verso i magenta ma in realtà è proprio un rosso medio e questo si vede anche rispetto alle mescolanze che verranno fuori con il blu. Aggiungendo una puntina di blu oltre mare abbiamo questo rosso scuro veramente profondo, bellissimo che somiglia un po' a un rosso indiano quindi tra il bordeaux e una terra. Ancora più belle sono le tonalità in cui c'è un po' di aggiunta di bianco. Mischiando un po' più di blu a questo rosso vediamo che si raggiunge una tonalità molto scura e quando sono così scure è anche difficile capire di che tinta esattamente si tratti. Adesso con l'aggiunta del bianco lo vediamo meglio quindi stiamo andando verso i viola è un viola comunque un po' desaturato è una sorta di caput mortum o viola di marte una tonalità bellissima però se volete dei viola più vibranti, più accesi vi consiglio di integrare a questo set anche il quinacridone magenta che è proprio un rosso freddo che mischiato all'oltremare vi darà dei viola molto più accesi, molto più brillanti. Adesso siamo a un violetto quindi con una predominanza del blu rispetto al rosso e qui il carattere viola si percepisce di più rispetto alle mescolanze precedenti è comunque di nuovo un viola grigiastro. Considerate che quando le gouache sono di alta qualità quando si aggiunge il bianco la tinta non viene smorzata ma viene in qualche modo esaltata e questo dato secondo me si vede molto bene facendo la ruota cromatica in questo modo quindi non soltanto con le mescolanze del colore puro ma anche con le mescolanze del colore in cui è all'interno un po' di bianco e adesso è la volta del blu oltremare puro tutti questi colori sono altamente opachi, coprenti e hanno un'ottima resistenza alla luce sono quasi tutti o ottima resistenza o molto buona resistenza alla luce poi queste caratteristiche potete vederle anche direttamente sul sito la gamma completa di queste gouache comprende 22 colori e secondo me questo è un buon set di partenza appunto vi direi di integrare il quina cridoni magenta se volete dei viola più accesi e anche per i verdi vedremo che ci saranno dei verdi molto naturali non estremamente brillanti quindi se volete dei turchesi e dei verdi più accesi magari potete pensare di integrare questo set anche con un verde già fatto oppure con il giallo ansa chiaro vedete infatti che questo verde che ho creato mischiando molto blu e poco giallo è un verde molto profondo, un verde foresta direi però anche qui che va leggermente verso i grigi più aggiungo giallo più questo verde si accende diciamo e diventa una tinta più satura penso che già da questa ruota cromatica si possa percepire quanto questi colori siano intensi quindi già solo con tre colori vedete quante sfumature si possano creare con appunto i limiti del caso però secondo me crea una palette già molto coesa, molto elegante proprio perché le tinte squillanti le abbiamo nei toni caldi e poi nei toni freddi abbiamo delle tinte un pochino più neutre lì a destra avevo creato quella striscia nera con della pittura acrilica per testare l'opacità allora mi sono stupita tantissimo del bianco perché è un bianco talmente opaco che è impossibile vedere la striscia nera poi nella seconda striscia ho diluito leggermente la pittura con l'acqua e ha mantenuto molto bene comunque la sua opacità nel giallo già si può vedere un po' di più il nero sottostante ma sono comunque effettivamente dei colori molto opachi, molto coprenti e per quanto riguarda il rosso, anche questo estremamente coprente nella striscia sottostante l'ho diluito molto e guardate quanto è intenso il colore anche se acquerellato però non vi consiglio di usare questi colori troppo acquerellati ma lo vedremo tra poco nella parte del bozzetto l'ultimo esperimento che volevo fare per quanto riguarda le mescolanze era vedere se riuscivo a ottenere un nero mischiando questi tre colori potete ovviamente ottenere moltissime varietà a terra, moltissimi marroni e utilizzando il blu in maniera più decisa potete raggiungere dei grigi e anche un colore molto molto vicino al nero come vedete quindi anche qui ho mischiato del bianco per vedere se il tono virava a qualche sfumatura o rimaneva completamente neutro e come vedete effettivamente si tratta di un grigio quasi completamente in colore la prima impressione che ho avuto usando queste gouache è stata estremamente positiva però provare i materiali in maniera diciamo così astratta e provarli su un soggetto sono due cose molto diverse a volte le prove mi piacciono e dipingerci no e viceversa quindi ho dovuto subito creare anche dei piccoli bozzetti per vedere come performano come mi ci trovo a dipingere un soggetto ho scelto dei soggetti secondo me molto molto indicati per le gouache che sono le nature morte e gli agrumi in particolare perché gli agrumi creano degli effetti di luce degli effetti di transluminescenza veramente molto interessanti e secondo me la gouache ha questa capacità di essere sia materica e pastosa sia di rappresentare benissimo la luce e gli effetti di trasparenza ho creato i miei bozzetti con la matita ma volevo partire da un fondo tonalizzato non volevo partire dal bianco sto pulendo un po' la palette per avere dello spazio in più dove mischiare e guardate quanto questi colori hanno macchiato la plastica ma c'è un praticissimo trucchetto per voi se non lo conoscete già è inutile faticare a strusciare con l'acqua o con uno straccio bagnato è sufficiente cancellare con una normale gomma da disegno e le macchie di colore vanno via c'è chi preferisce utilizzare le tempere andando subito con il colore molto denso e chi invece preferisce costruire dei diversi livelli anche di opacità più progressivamente quindi partendo con il colore diluito e poi andandolo via via ad utilizzare sempre più denso io di solito parto con il colore già abbastanza denso seguendo un po' i colori che vedo nella mia immagine di riferimento tra l'altro se volete provare a dipingere anche voi questi soggetti vi lascio le immagini di riferimento nella descrizione del video sono delle immagini prese dal sito Unsplash quindi sono immagini prive di copyright allora devo dire che ho trovato una differenza rispetto a delle gouache che ho provato in passato perché io sono sempre stata abituata ad utilizzare il colore denso appena uscito dal tubetto quasi senza diluirlo perché appena lo vai a diluire con l'acqua comunque perde di opacità devi trovare una sorta di consistenza ideale con queste gouache ho dovuto un po' ricalibrarmi perché anche diluendole con un pochino di acqua hanno una performance spettacolare e se usate direttamente dal tubetto può essere un po' difficile farle scorrere sul foglio quindi non abbiate paura a spruzzare qualche goccia d'acqua sulla pittura appena uscita dal tubetto perché non perderà le sue caratteristiche di opacità intensità eccetera allo stesso tempo vi consiglio di non diluirle troppo perché basta veramente pochissimo per far cambiare consistenza alle gouache quindi o utilizzate uno spruzzino oppure se bagnate il pennello dovete sempre un po' asciugarlo prima di andare a mischiare il colore trovare il colore giusto secondo me è una delle difficoltà maggiori con le gouache però quando lo trovi crea un effetto favoloso per quanto riguarda questi mandarini devo dire che sono andata piuttosto lenta all'inizio ma dovevo un po' ricalibrarmi perché era tanto che non usavo delle gouache io uso quasi sempre l'acquerello come probabilmente avrete notato però anche le gouache sono un materiale che mi piace moltissimo e soprattutto se mi seguite su Instagram presto troverete dei nuovi contenuti a tema gouache sicuramente mi ha aiutato creare lo sfondo a un certo punto quindi creare quel blu in alto e anche quelle altre sfumature fredde sotto ai mandarini per darmi un po' di contesto e quindi farmi capire poi da lì come aggiustare gli altri colori e i toni chiari e scuri da aggiungere bisogna fare attenzione a non mischiare troppo i colori tra di loro se non si vogliono avere delle tonalità troppo spente però devo dire che non ho avuto problemi ho trovato tutte le tonalità di arancione che mi servivano e poi per farle virare al marrone bastava aggiungere una puntina di blu a un certo punto ci si rende conto che mancano i toni estremi quindi quelli molto scuri e quelli molto chiari quindi ho cominciato ad aggiungere i toni scuri nei verdi delle foglie e poi i punti luce che sono dei momenti che danno più soddisfazione e qui ho usato il bianco puro in pochissimi punti l'ho quasi sempre mischiato almeno con un pochino di giallo e poi quel colore leggermente rosato piuttosto diluito quindi ecco sto utilizzando il colore anche abbastanza diluito per stratificare e non ho avuto problemi il colore dello strato sottostante non si è risollevato e però è anche abbastanza semplice mischiare i colori tra di loro una volta messi sul foglio anche utilizzando il pennello un po' inumidito e quella parte rosata lì sotto allo spicchio di mandarino secondo me ci sta benissimo perché è come se ribadisse l'elemento di luce e quindi come se fosse un riflesso dell'oggetto sul ripiano e quindi funziona molto bene perciò osservate sempre anche i colori che gli oggetti riflettono sugli oggetti circostanti soprattutto sul piano su cui sono appoggiati se volete vedere per intero quindi senza tagli e tutto in tempo reale questi due bozzetti, queste due nature morte a gouache vi ricordo che tutti questi video li trovate sul mio Patreon in un archivio che raccoglie moltissimi video a cui potete accedere anche se vi abbonate soltanto per un mese il bozzetto dei limoni è stato molto più veloce molto più immediato perché secondo me ci avevo un po' preso la mano mi ero un po' riscaldata con il bozzetto sopra qui stavolta si tratta di trovare delle sfumature che ruotino attorno ai gialli quindi dei gialli più o meno mischiati con il bianco con l'arancione, con il verde per creare comunque un senso di volume mi è sembrato di andare più veloce, più diretta con meno esitazione a riempire i primi blocchi di colore e poi a livello stilistico mi piace moltissimo con le gouache lasciare le pennellate visibili mentre magari con l'acquerello mi viene proprio da sfumare da lasciare delle atmosfere soffuse ma è normale secondo me che il mezzo pittorico venga sfruttato anche per quelli che sono i suoi punti di forza quindi l'acquerello per la sua trasparenza e le gouache per la sua matericità gouache e acquerello si possono anche mischiare in uno stesso dipinto io non amo farlo però ci sono degli artisti che lo fanno con dei risultati eccezionali anche qui a un certo punto è stato utile creare il colore di sfondo quindi non lasciare quella base acquerellosa dietro ma creare una base più compatta con il colore più omogeneo però ho scelto stavolta un colore un po' più chiaro ma non sono sicura di aver fatto la scelta giusta perché infatti i mandarini secondo me funzionano meglio perché hanno una palette che si basa su un contrasto un po' più alto e secondo me funziona meglio volevo invece esagerare l'elemento viola delle ombre dei limoni per creare questo punto di contrasto tra il viola delle ombre e il giallo dei limoni un altro elemento che secondo me ha funzionato bene è stato aggiungere quei tocchi di blu cobalto potremmo dire in alcuni punti tattici di quell'ombra anche lasciandoli così proprio con la pennellata visibile perché si crea una sorta di punto di vibrazione dell'ombra una variazione cromatica quindi l'ombra non è tutta uguale che secondo me rappresenta abbastanza bene come funziona la luce anche se la stilizza, la semplifica però l'impressione visiva ci riporta a quella sensazione di quando vediamo un'ombra ma dietro c'era una luce poi ci sono dei punti che devo scurire quindi mancano un po' i toni medio scuri e dei punti un po' più rossastri sui limoni interi lavorare con queste gouache è stata un'esperienza estremamente positiva e non vedo l'ora di riusarle se vi piacerebbe vedere un altro video qui su youtube dove uso queste gouache magari per un altro soggetto fatemelo sapere nei commenti che soggetto vi piacerebbe che facessi potrei fare per esempio un ritratto oppure un paesaggio o se avete altre idee si accettano suggerimenti io mi sono divertita moltissimo a dipingere questa frutta e spero che per voi sia stato utile e piacevole da guardare se avete delle domande in generale su queste gouache vi risponderò nei commenti ed ecco qua i dipinti finiti se siete arrivati fin qui grazie per aver guardato vi aspetto nei commenti e noi ci vediamo presto nel prossimo video grazie